Allora, siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Francesco Cori del collettivo politico La Città Futura che gestisce anche questo canale YouTube in cui troverete diverse altre interviste con Francesco e più in generale sul tema di cui parleremo oggi, cioè della Palestina anche se oggi diciamo che differentemente di quello che facciamo di solito cioè che parliamo della Palestina dal punto di vista della politica internazionale oggi invece vorremmo parlare della Palestina da un altro punto di vista cioè dal punto di vista della politica nazionale anche perché appunto si tratta di passare dalla teoria internazionale alla prassi nazionale e quindi volevamo affrontare un tema piuttosto urgente che è la questione del fatto che appunto sono previste per il 30 due manifestazioni al momento contro il genocidio in Palestina che sono organizzate da forze politiche sia palestinesi in Italia che italiane differenti e addirittura c'è chi dice che ci sarà persino una terza manifestazione a Milano di altre forze diciamo palestinesi e anche se questa voce insomma ancora non sappiamo quanto sia confermata allo stesso tempo però c'è stato un appello significativo dei primi diciamo che avevano indetto una manifestazione per il 30 a Roma che sono poi anche la parte diciamo più radicale dei palestinesi e di chi si sta impegnando contro il genocidio che in qualche modo anche se in maniera discutibile comunque hanno posto almeno il problema fondamentale di cercare di arrivare a una manifestazione comune perché per quanto è vero che esistano delle contraddizioni e dei conflitti in Palestina tra forze politiche differenti dove ci sono forze diciamo borghesi che tendono sotto certi aspetti addirittura a una sorta di collaborazione con i sionisti in funzione subalterna e dall'altra ci sono invece forze più radicali e più rivoluzionarie però diciamo che in Italia bisogna sempre ricordare che quello che possiamo fare noi per la Palestina non è tanto fare il tifo per uno piuttosto che per un altro anche se naturalmente noi ci schieriamo comunque dalla parte delle forze proletarie rivoluzionarie che sono per la resistenza eccetera ma appunto questa non è la questione fondamentale perché noi non dobbiamo essere soltanto dei teorici astratti ma poi dobbiamo fare politica concretamente e fare politica concretamente sulla Palestina significa costruire il fronte più ampio possibile per far sì che quantomeno il governo italiano come primo punto fondamentale da raggiungere smetta di inviare armi e quindi di collaborare direttamente al genocidio in atto in Palestina quello che sta succedendo in Libano in tutta la regione da parte dei sionisti poi bisognerebbe ampliare questa battaglia facendo sì che il governo italiano smetta a livello internazionale di schierarsi dalla parte del genocidio e invece prenda posizione contro e poi appunto ci sarebbe la questione di battersi per il riconoscimento dello Stato palestinese cosa che hanno fatto anche altri paesi dell'Unione Europea come la Spagna, l'Irlanda, la Slovenia per fare degli esempi pratici e immediati e da questo punto di vista il fatto che ci siano due potenzialmente addirittura tre manifestazioni lo stesso giorno è una cosa sicuramente che impedirà di raggiungere questi obiettivi e quindi qualsiasi sforzo per cercare di costruire un'unica grande manifestazione è essenziale, fondamentale proprio di questo volevamo discutere con Francesco concludo questa introduzione ricordando poi che oltre a queste manifestazioni molto importanti contro il genocidio in Palestina del 30 il giorno prima cioè il 29 quindi nello stesso fine settimana è previsto uno sciopero generale molto importante anche qui in realtà purtroppo ci sono due ci saranno due manifestazioni diverse da una parte quella di quasi tutto il sindacato di base che per primo ha indetto questo sciopero per questo giorno e poi dall'altra parte uno sciopero diciamo una manifestazione più di massa anche se su posizioni meno radicali che unisce la UIL e la CGL quindi quasi tutti i sindacati scenderanno in uno sciopero generale anche se sappiamo che il governo spaventato sta facendo di tutto per far sì che non sia generale cioè che alcuni settori che hanno scioperato da poco non possano far parte dello sciopero la questione è ancora aperta e però appunto al di là del fatto che sarebbe importante unire queste manifestazioni e quindi unire tutti i sindacati anche se hanno posizioni diverse e piattaforme diverse sarebbe poi particolarmente importante cercare di trovare una forma di connessione e di unità tra le manifestazioni del 29 e le manifestazioni del 30 perché appunto le questioni di politica interna poi sono strettamente legate alle questioni di politica estera e quindi anche per raggiungere gli obiettivi fondamentali che abbiamo posto cioè fine delle armi a Israele fine dell'appoggio all'internazionale del genocidio riconoscere lo stato di Palestina eccetera sarebbe essenziale trovare diciamo una forma di di accordo e di lotta comune con con le forze sindacali naturalmente sia il sindacato di base questo è più semplice però il sindacato di base è minoritario e sia soprattutto con con le grandi forze sindacali che hanno posizioni sicuramente più moderate ma che appunto con cui va aperto sicuramente un confronto e un dialogo per cercare di di portarle il più possibile in una manifestazione nella manifestazione del 30 e naturalmente per portarle sarebbe necessario che ci sia una sola manifestazione perché se ce ne sono due o tre diventerà oggettivamente molto molto più difficile va bene dopo questa troppo lunga introduzione do la parola a Francesco Cori va bene io intanto al di là della complessità mi schiero cioè nel senso che posso capire tutte le questioni in Palestina ma secondo me bisogna sostenere prevalentemente quelle manifestazioni che hanno piattaforme più il più vaghe possibile cioè il più generiche possibile capisco che alcuni mi diranno eh però tu non riconosci però ecco secondo me entrare nelle questioni troppo nelle questioni interne al movimento palestinese in un popolo che subisce un genocidio mi sembra una cosa che non ci possiamo permettere e quindi io lo dico subito insomma cioè critico proprio apertamente tutti coloro i quali vogliono fare il più uno questo credo che sia il primo problema perché facendo il più uno si produce separazione divisione non e le masse non capiscono e le masse che come dire dalle masse cattoliche a quelle pacifiste più astratte che magari non vorrebbero neanche parlare di resistenza perché loro sono non violenti ma che come dire oggettivamente riconoscono la violenza di israele e condannano il massacro del popolo palestinese ecco qui si perde una parte e l'obiettivo nostro in questo momento è contrastare il governo poi io come dire sostengo la resistenza dei popoli cioè però secondo me porre troppi putti in piattaforma e spaccare su questo punto un errore e chi l'ha fatto se ne ha assunto la responsabilità però questo non vuol dire che cioè si chiude cioè secondo me se c'è ogni tentativo d'apertura va anche perché magari quelli che scrivono non la pensano tutti così e ci sono delle divisioni anche su altri campi e quindi ogni tentativo d'apertura va accolto fermo restando che il punto di piattaforma dovrebbe essere il più generico possibile anche la piattaforma questo lo dico chiaramente anche la piattaforma su cui io scendero in piazza sicuramente sperando poi che ce ne siano due ma se non c'è cioè che ce ne sia una sola ma se ce ne fosse se ce ne fossero due io scendo con la piattaforma più generica non perché sono pacifista astratto ma perché da comunista l'obiettivo mio è contrastare il governo Meloni e fare in modo che il governo Meloni non mandi armi israele che riconosca lo stato palestinese però diciamo che l'atteggiamento dovrebbe essere quello d'apertura sia a sinistra che a destra cioè a sinistra nel senso di creare dei contesti all'interno dei quali tutti possano parlare senza come dire principio ad escludendum a destra nel senso che cioè se io potessi andare a un'assemblea direi cioè il problema è che noi non dobbiamo scrivere entità sionista e non lo scriviamo cioè io direi proprio così altrimenti come dire si crea tutto un clima all'interno del quale cioè le forze più moderate possono dire io non sono anche io sono contro il massacro dei palestinesi però lì non ho aderito cioè perché non c'era quella parolina ma che me frega delle paroline cioè io voglio dire a un certo punto l'obiettivo principale in Italia secondo me dovrebbe essere contrastare la politica del governo Meloni sulla Palestina tanto più che cioè detto anche sinceramente non possiamo almeno noi in Italia soprattutto a livello di massa dire beh sto gruppo è meglio di quest'altro cioè non la finiamo più cioè lo possiamo dire tra comunisti possiamo analizzare le cose in maniera più approfondita però qui se prendiamo la massa da una parte e l'NP dall'altro oddio cioè se devo parlare proprio con tutta l'onestà ho veramente un problema quindi non capisco per quale ragione in Italia io debbo anteporre a una manifestazione l'appartenenza a un gruppo piuttosto che un altro questo secondo me non verrebbe capito da nessuno poi io le idee me le faccio cioè io come dire ma che poi sono cose che sappiamo tutti cioè che la dirigenza dell'NP è corrotta cioè lo sanno penso l'80% degli italiani e dei palestinesi vabbè e lo sappiamo che amasse una forza religiosa che ha avuto accordi anche con Netanyahu poco tempo fa ma che ha combattuto e che non è al Qaeda lo sappiamo tutti quindi insomma secondo me cioè sono questioni di lana caprina su cui possono cadere gli studenti che magari possono vivere i palestinesi sulla loro pelle però noi dovremmo chiedere sia i palestinesi che vivono le cose sulla loro pelle ma soprattutto magari agli italiani cioè di fare un passo indietro e di puntare alla costruzione di un movimento di massa e io credo che poi alla fine anche la manifestazione a cui aderirò ha un po' questo limite perché finché c'è spaccatura è segno di un limite è segno di un limite di comprensione della realtà poi certo non è che uno può parlare dei limiti e non partecipare quindi io parteciperò sicuramente alla manifestazione che c'è la piattaforma più unitaria però il limite va visto perché chi agisce lo deve vedere in più naturalmente questa cosa permette ai settori moderati di sfilarsi e di non assumersi le loro responsabilità però se loro non si sfilano cioè il problema della Palestina non diventa una questione di dibattito politico è solo una questione morale che esiste nel cuore degli italiani e che fondamentalmente non ha risonanza e secondo me questo è un problema di tattica io adesso parlo da comunista dei comunisti e secondo me poi riflette anche la passività degli ultimi anni per cui molte persone si concentrano sulla politica internazionale non agendo per modificare i rapporti di forza in Italia ma prendendo posizione e poi portano queste posizioni all'interno dei giochi della sinistra e questo non diciamo non favorisce uno sviluppo ecco secondo me non favorisce uno sviluppo fermo restando che secondo me noi dovremmo parlare con tutte le persone in buona fede anche per esempio con le posizioni che ho criticato per cercare degli individui dei gruppi eccetera che in un lavoro anche subendo l'isolamento eccetera fargli capire che bisogna cambiare il punto di vista altrimenti tutto si riduce a un gioco tra fazioni che non fa bene a nessuno certo io sono completamente d'accordo su queste questioni vorrei ricordare appunto una riflessione molto interessante che abbiamo fatto con Samira Alcariuti che è un giornalista italo-palestinese con cui insomma è la nostra principale fonte per le questioni palestinesi e che giustamente ricordava come un esempio da seguire quello dei i Viet Cong quando c'era appunto una situazione simile con l'aggressione dell'imperialismo occidentale appunto al Vietnam e appunto Samira Alcariuti sottolineava appunto come i Viet Cong quando avevano possibilità di far conoscere le loro posizioni quelli che stavano qui in Italia non non facevano mai dei discorsi o dei documenti lunghi e dettagliati perché su quello era difficile costruire un fronte comune ma appunto mettevano in evidenza soltanto quelle 3-4 parole d'ordine fondamentali che erano essenziali per la resistenza vietnamita ma erano essenziali per costruire poi un movimento di massa contro l'aggressione imperialista in Italia e quindi appunto non mettevano mai una parola di troppo una parola fuori posto proprio perché sapevano che la cosa fondamentale era appunto quella di essere poi efficaci cioè di costruire il più possibile un movimento di massa perché appunto la cosa da fare allora e la cosa da fare oggi in Italia è far sì che l'imperialismo italiano non possa diciamo sostenere il genocidio e l'aggressione imperialista e quindi da questo punto mi dispiace perché la riflessione sulla repressione no? sulla repressione dello Stato italiano perché lo Stato italiano non è che agisce da entità neutra agisce operando attraverso la repressione e mi vengono in mente due momenti della repressione la manifestazione del 5 ottobre nella quale io sono andato non perché condividessi del tutto cioè l'approccio ma perché non è giusto che venga repressa una manifestazione però su che si giocava su quella repressione cioè si giocava su un post che incidava il 7 ottobre cioè è necessario scrivere un post di questo tipo secondo me no e poi e io me lo ricordo cioè il clima di intolleranza questo vuol dire che sono responsabili loro no è responsabile del governo italiano però questo ci fa capire in che contesto noi operiamo cioè se noi ci isoliamo veniamo repressi e soprattutto la repressione più forte è se noi colleghiamo le istanze sociali cioè 29 e 30 alle istanze sulla Palestina però una cosa è che il governo cerca di reprimerti quando tu hai parole d'ordine chiare limpide un movimento di massa e una cosa è se stai nell'isolamento questo secondo me è il primo punto quindi a giocare troppo a rialzo pagano i più deboli secondo me secondo punto cioè io ho in mente quello che è successo in Olanda e il fatto che un membro della comunità palestinese per aver scritto che in Olanda ci sono state delle cose inaccettabili da parte dei sionisti è stato arrestato allora quindi noi qui dobbiamo capire cioè quanto negli apparati dello Stato è forte la tendenza della repressione e non è una cosa su cui rispetto alla quale noi dobbiamo tenerne conto perché ci abbiamo ragione cioè in Olanda una squadra israeliana non ha rispettato il minuto di silenzio rispetto ai morti in Spagna in quel minuto di silenzio ha fatto dei cori razzisti nei confronti dei palestinesi dicendo che le donne e i bambini dovevano essere uccisi cioè questi sono stati di fatto poi ci sono stati degli scontri adesso io non so dove sono venuti e come eccetera e il re d'Olanda ha paragonato quindi capiamo in che contesto viviamo il re d'Olanda ha paragonato quegli scontri alla notte dei lunghi coltello cioè alla notte dei cristalli poi operando una macchinazione ideologica sicuramente voluta dal regime sionista per cui come dire dato che inventando che delle persone erano rapite erano state rapite dato che ci sono stati gli scontri rapimenti che non ci sono stati erano scontri tra tifoserie possiamo essere d'accordo o contro a me non piacciono però dobbiamo inserirli in quel clima allora alla fine che cosa succedeva che le persone che si sono scontrate con la polizia sono state equiparate ai nazisti e Hamas è stata equiparata ai nazisti perché hanno detto come questi rapiscono gli israeliani allo stesso modo Hamas ha rapito gli israeliani quindi noi viviamo in un mondo surreale all'interno del quale le istituzioni europee favoriscono questo clima di surrealtà vuol dire che c'è reprimo cioè che c'è un alto livello di repressione e noi non possiamo non tenerne conto ecco questo voglio dire cioè il dibattito pubblico è anche condizionato da questo e anche gli apparati dello Stato sono condizionati da questo quindi noi cioè dobbiamo essere molto attenti a presentare la questione nella maniera più chiara semplice inequivocabile possibile perché solo lì abbiamo un'alleanza con le masse e solo lì evitiamo questi meccanismi repressivi che naturalmente vanno ad personam certo sì è giusto sono d'accordo su tutto appunto secondo me la cosa più più complessa è distinguere sempre diciamo il piano dell'analisi internazionale e quindi della presa di posizione a livello internazionale diciamo che però è il piano della teoria perché lì non possiamo intervenire in maniera troppo diretta e secondo me appunto lì non bisogna avere dubbi cioè si sta dalla parte della resistenza e si sta contro chi assume posizioni collaborazioniste cioè su questo non credo che ci possano essere dubbi come non credo che ci possano essere dubbi che all'interno poi della resistenza si sta con le forze diciamo progressiste di sinistra comuniste eccetera rivoluzionarie e non con le forze diciamo borghesi o addirittura conservatrici o addirittura reazionari questo direi che dovrebbe essere evidente sul piano diciamo teorico però appunto sul piano della prassi e quindi di quello che possiamo fare in Italia appunto bisogna tenere presente quello che ricordava giustamente Francesco che noi siamo in un paese imperialista che questo paese è parte integrante del genocidio e dell'escalation della guerra imperialista in Medio Oriente e quindi noi innanzitutto dobbiamo tenere presente che giochiamo in questo campo che è un campo avverso perché il potere non ce l'abbiamo noi e quindi appunto bisogna evitare qualsiasi forma di avventurismo e qualsiasi forma di minoritarismo e bisogna cercare di costruire il fronte diciamo più ampio possibile per raggiungere appunto degli obiettivi concreti perché poi la lotta non può essere soltanto una lotta di testimonianza per dire non il mio nome che pure in mancanza di niente è comunque una cosa positiva ma deve essere una lotta che ha dei risultati e degli obiettivi praticabili e che devi cercare di praticare perciò dicevo appunto di darci degli obiettivi praticabili che possono essere diciamo almeno come primo obiettivo più semplice più praticabile è quello dell'embargo totale di qualsiasi forma di arma al regime sionista su questo bisognerebbe costruire il fronte più ampio possibile poi si possono costruire fronti su battaglie più avanzate come quello di far sì che l'Italia a livello internazionale non copra più il genocidio ma anzi si astenga o addirittura prenda posizione a favore per esempio del Sudafrica e di quei popoli e di quei paesi che stanno sostenendo invece l'accusa di genocidio oppure la lotta per il riconoscimento dello Stato di Palestina eccetera e costruire diciamo su questi punti di vista i fronti più ampi possibili per raggiungere questi obiettivi anche con chi su altre cose non siamo d'accordo ma questo non è importante perché appunto noi dobbiamo fare una lotta efficace non è che ci dobbiamo sposare quello con cui facciamo la campagna magari su tante altre cose non siamo d'accordo come per esempio su tante altre cose non siamo d'accordo con alcuni settori della resistenza in Palestina ma questo non toglie che siamo diciamo comunque dalla parte della resistenza e contro ogni forma di collaborazionismo e lo stesso vale per la battaglia che dobbiamo fare in Italia per cui appunto per quello che riguarda il concreto bisognerebbe fare il più possibile che il 29 e il 30 siano due giornate di lotta uno per quello che riguarda la politica interna e quindi cercare di costruire un'unica grande manifestazione contro le politiche economiche antipopolari del governo e magari con qualche obiettivo concreto e poi collegarla con la grande manifestazione che riguarda diciamo la politica estera del nostro paese del giorno successivo per cercare di far sì che il nostro imperialismo non possa più avere le mani libere e collaborare al genocidio in palestina cioè metterli più renderli il più possibile difficile visto che tra l'altro è qualche cosa di assolutamente impopolare il fatto che il nostro imperialismo appoggia il genocidio su questo noi abbiamo veramente la possibilità di incidere e di costruire una lotta di massa che poi diventa anche una lotta contro il governo e quindi diciamo ha dei benefici anche sul piano nazionale e sul fatto di contrastare le politiche antipopolari a livello economico voglio aggiungere una cosa che per esempio non ho nessuna simpatia per i dirigenti di sinistra italiana e forse neanche per il 5 stelle però io sarei contento se a una manifestazione partecipassero loro non è che uno si deve tenere la posizione sua anche perché in Parlamento accusano il governo di avere determinate posizioni troppo legate poi magari se loro vanno al governo potrebbero fare pure la stessa cosa però se non si capisce che questo tema che poi non è il tema solo della Palestina e quindi ci riguarda come italiani questo tema della guerra può connettersi ai temi sociali se diventa una parte dell'agenda politica allora è possibile che magari anche gli scioperi siano più partecipati perché appunto si apre anche una prospettiva di lotta sociale che permette ai lavoratori di pensare che qualche cosa si può ottenere se invece rimane tutto relegato ad ambienti che fanno fondamentalmente testimonianza la stessa lotta di lavoratori sarà debole perché non pensi di poter incidere insomma quindi secondo me non è che uno lavora per l'unificazione del movimento palestinese solo e già sarebbe una cosa importante per avere un'iniziativa di massa contro le politiche del genocidio perché poi è il modo più importante per aiutare palestinesi ma anche per portare il tema della guerra dentro l'agenda politica italiana e quindi far pensare ai lavoratori che il governo Meloni non è imbattibile perché finché rimaniamo così il governo Meloni e i lavoratori appare imbattibile se il governo è imbattibile allora a quel punto per quale ragione io devo scioperare cioè questo è il problema anche per esempio sullo sciopero io naturalmente sosterrò lo sciopero non è che non conosco i limiti dei sindacati che scioperano li conosco benissimo ma il problema vero è che se noi non sosteniamo gli scioperi il risultato fondamentalmente sarà quello che stiamo favorendo il governo quindi nei confronti dei lavoratori noi per non perdere 80 euro e per il fatto che loro sono corrotti sono stati corrotti eccetera tu vuoi sostenere questo governo che continua a peggiorare le tue condizioni di vita quindi insomma io penso che per questa ragione bisognerebbe fare un po' un salto di qualità e capire che in certi momenti vanno costruite delle alleanze cioè che sono tattiche sono esclusivamente tattiche rispetto al fine che tu vuoi ottenere cioè indebolire questo governo sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista delle politiche internazionali poi sarà l'azione soggettiva delle masse a cambiare le cose né come dire i gruppi politici né i sindacati ma se non c'è questo cioè fondamentalmente giriamo su noi stessi cioè è un continuo girare su se stessi dicendo insomma chi c'era più duro vabbè siamo contenti di questo però poi alla fine l'inflazione la paghiamo tutta noi e la finanziaria passa senza colpo ferire i dirigenti dei sindacati continuano ad avere l'egemonia sui lavoratori passiva naturalmente ma cioè continuano ad averla non gli frega niente che tu poi alla fine non hai inciso anzi forse gli va bene pure così perché continuano a vivacchiare ma il punto è capire qual è la contraddizione fondamentale e secondo me in molti non lo stanno capendo e in molti non capiscono che se tu non lavori in questa direzione cioè alla fine chi ne trarrà beneficio sarà solo ed esclusivamente il governo Meloni sì aggiungerei solo due cose il resto sono assolutamente d'accordo con quello che dici cioè in primo luogo che bisognerebbe anche distinguere bene tra il fatto che rispetto alla posizione da tenere in Palestina sono i palestinesi che decidono che hanno devono avere il pieno diritto di decidere in maniera libera e autonoma naturalmente noi come internazionalisti italiani possiamo dire la nostra possiamo esprimere il nostro punto di vista ma questo non toglie che a decidere devono essere loro in maniera completamente libera e autonoma possiamo decidere noi per loro però su come portare avanti la lotta in Italia contro l'imperialismo italiano che è parte integrante dell'aggressione imperialista del genocidio qui devono decidere gli italiani e poi certo i palestinesi sono liberi di giudicare e di dire la loro e però appunto su questo piano devono essere gli italiani che indipendentemente in maniera altrettanto libera e autonoma si prendono le loro responsabilità e decidono qual è appunto la tattica più giusta per raggiungere questo obiettivo quindi come sarebbe sbagliato pretendere che i palestinesi facciano quello che decidiamo noi è altrettanto sbagliato pretendere che sono i palestinesi che ci dicono come dobbiamo portare avanti la lotta in Italia contro l'imperialismo italiano anche su questa questione fermo restando che poi ognuno ha il diritto di dire quello che pensa di esprimere la propria posizione una posizione critica anche perché appunto questa questo caso fortunato per cui il 29 il 30 sono un giorno dopo l'altro per noi potrebbe essere un salto in avanti eccezionale perché noi dobbiamo riuscire a unire sempre la teoria che riguarda diciamo l'analisi internazionale con la prassi che poi riguarda la lotta sul piano nazionale quindi dobbiamo sempre cercare di unire il più possibile la politica interna con la politica estera perché appunto una politica estera e quindi riflessioni teoriche che poi sono staccate dalla prassi e dalla politica interna rischiano di essere appunto delle pure posizioni di testimonianza mentre anche la lotta interna la prassi sul piano nazionale se non tiene conto della teoria e dello sfondo internazionale rischia di diventare una battaglia sostanzialmente corporativa e quindi debole e quindi sostanzialmente fallimentare perciò appunto per noi questa sfida di cercare di trovare il più possibile unità tra il 29 e il 30 è una sfida decisiva e dobbiamo fare tutto il possibile perché ci sia diciamo il più possibile una correlazione anche perché visto che il nostro obiettivo è in primo luogo rovesciare il governo imperialista italiano il modo che possiamo farlo in maniera più efficace è proprio unire queste due lotte fondamentali cioè lo sciopero generale del 29 e le manifestazioni contro il genocidio e l'aggressione imperialista in Medio Oriente del 30 intanto ho già una cosa positiva che la data sia unica perché proprio questo fa il dialogo e quindi io per chiudere direi questo chiarezza degli obiettivi e inclusività maggiore possibile perché appunto io da questo punto di vista non condivido tutti gli aspetti di quell'appello però ne capisco le ragioni cioè io capisco che è importante che la manifestazione sia unica però ecco vorrei che non sia unica nell'ottica di fare il più uno ma sia unica in un'ottica di maggiore inclusività e quindi penso che forse noi dovremmo veramente lavorare in chiave pedagogica con tutte le persone con cui possiamo lavorare sì e poi concluderei su questa cosa in parte l'hai già toccata te che la politica delle alleanze la politica delle alleanze se vuoi veramente incidere e non limitarti alla testimonianza è fondamentale e su questo piano appunto c'è il discorso fondamentalmente di Machiavelli cioè che se il fine è un fine veramente giusto e sostanziale i mezzi per raggiungerlo anche se in astratto non ci possono piacere sono indispensabili perché altrimenti non raggiungerai mai quel fine sostanziale naturalmente questo non vuol dire che qualsiasi mezzo per qualsiasi fine sia lecito no soltanto se il fine è giusto e sostanziale i mezzi diventano sono giustificati questo che significa che per fare un esempio se il 29 lo sciopero generale contro il governo parteciperanno come succederà anche dei lavoratori per esempio della UIL di destra e questo che vuol dire che io lo sciopero non partecipo allo sciopero generale perché parteciperanno anche dei lavoratori della UIL di destra no parteciperò ugualmente allo sciopero che mi farò la mia manifestazione separata no farò di tutto per fare la manifestazione più unitaria possibile questo naturalmente non significa che poi dentro quella manifestazione cercherò di portare i miei contenuti e cercherò di far sì che siano egemoni rispetto a quelli diciamo contrari ai nostri e lo stesso vale per il 30 cioè se il 30 ha la manifestazione contro il genocidio e l'aggressione imperialista nel vicino oriente partecipa anche un immigrato islamista che appunto sul piano religioso o dei costumi è di destra è molto lontano da me che faccio io non partecipo alla manifestazione oppure lo caccio via o mi metto a litigare con lui no semplicemente però nella manifestazione cercherò di far prevalere le nostre posizioni che sono posizioni giuste cercherò di fare egemonia eccetera però non è che vado a spaccare il fronte perché spaccarlo vorrebbe dire non realizzare quello che è l'obiettivo va bene vuoi dire un'ultima cosa Francesco in conclusione no no abbiamo detto tutto va bene grazie allora alla prossima